Buongiorno! Dove stiamo andando oggi? A vedere gli gnomis! Dove? A vedere gli gnomis! Gnomis! Cos'è che andiamo a vedere? Scusa? Andiamo a vedere gli gnomis! Gnomis! Duda! Vedevi vedere gli gnomis? Sì! Eh? Sei pronto? Sì! E cosa gli dice gli gnomis quando li vedi? Sì! Cosa gli dici? Gli dici che sei andato in piscina gli gnomis! Sì! E gli racconti cosa hai preso! E gli racconti cosa hai preso! Va bene! Tutti pronti allora? Sì pronti! Salutare! Ciao! Gnomis! Dove si va? A vedere gli gnomis! A vedere gli gnomis! Andiamo a vedere gli gnomis! Come posso tenere gli gnomis? Od io via! Il campello ha un nome personale E viene tenuto con grande cura Ogni mattina prima dell'alba L'ognomo lava la barba con acqua di ruccello Receta dei piccoli segni-animali del bosco in particolare sono affezionati in panini pronti variabili gli gnomi la casa degli gnomi andiamo a vedere bussiamo magari ti rispondono è una casa gigante a 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 cos'è? è la trappola per i troll c'è un troll dentro qua oh mamma mia guarda che bella guarda mamma mia nonna guardami Alessandro 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 mi guardi sottolo no no hanno chiuso le tende apri e adesso no perché è chiuso guarda eccolo gli gnomi che puliscono stanno facendo le pulizie Giacomo vuoi vedere qua? guarda 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 hai visto attra guarda guarda Quando mi 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 dico posso? Fammi vedere che lo mangi! Ahhhh! Cagliale! mi stai portando mi stai portando a lavoro vai Ale, portami al lavoro portami al lavoro tento, tento, tento e mo? no Ale